Benvenuti a questo nuovo ciclo di esplorare i confini. Qual è il significato di questa insistenza, vi chiederete voi? Il significato è quello di mostrare proprio come nel momenti più difficili bisogna saper fare affidamento sulla propria creatività e spirito d'iniziativa. Questa è stata la nostra scelta, in un momento di crisi come quello dettato dalla pandemia, rilanciare un discorso più ampio e innovativo. Quindi questa nuova serie vi accompagnerà per tutta la primavera e nei mesi finali di questa crisi sanitaria. Bene, si inizierà parlando del Carnevale di Fano, della sua storia secolare, poi si toccheranno temi come le onde gravitazionali, l'origine della vita nel cosmo, la vita e l'arte di un grande musicista John Cage, di Nietzsche e di Wagner, di Domenico Modugno, di Fake News e della salute di Gacciaia Alpini, dell'arte giapponese e del suo influsso sulla pittura europea dell'Ottocento. Vi invito quindi ad ascoltare, a partecipare e se il discorso portato avanti vi piacerà, a collaborare con il Circolo Bianchini e sulle sue iniziative. Buon ascolto a tutti e arrivederci a presto. Il Carnevale di Fano è parte integrante della nostra storia e ci sono documenti del XIV secolo che testimoniano la sua presenza e la sua organizzazione. Quindi questo afferma che questo Carnevale è uno dei più antichi, se non il più antico, d'Italia, d'Europa e direi del mondo, poiché esso nasce proprio nei nostri paesi. Questo lavoro che presentiamo, un lavoro di ricerca realizzato dal professor Tosi insieme ai suoi collaboratori, è un documento straordinariamente importante, è un tesoro perché narra, racconta tutto il percorso del Carnevale in questi secoli, ma soprattutto potrei definirlo come un archivio portatile, quindi veramente una pubblicazione straordinariamente importante per tutti noi. Un ringraziamento al Circolo Bianchini che con questa nuova serie di esplorare i confini vuole partire proprio dal Carnevale, vuole partire valorizzando questo lavoro importante e questo ovviamente vi fa molto piacere e le ringrazio anche per questo lavoro di ricerca che fanno e con gli appuntamenti previsti che continuano in questa esplorazione della cultura di Fano, ma non solo, quindi un'occasione importante di crescita per tutti noi. Salve, benvenuti a tutti. Oggi ci troviamo qui per parlare di Carnevale, perché Enrico Tosi, studioso, persona che sicuramente molti di voi conoscono per il suo impegno in diverse associazioni di tipo ambientalista, e anche come insegnante di lettera nelle scuole superiori, ha compiuto un'impresa veramente degna di nota, cioè raccogliere per la prima volta tutti i documenti dell'antichissimo Carnevale di Fano, cioè sicuramente uno dei più antichi d'Italia. È un'opera, credete a me, insomma, veramente affascinante, perché leggerla vuol dire viaggiare nel tempo e ci permette anche di conoscere i nomi di persone, insomma, di 500-600 anni fa, che ne so, Chico de Gaifa, mercante di stoffe, Antonio Beccaro, Menino Trombadore. Questi documenti percorrono la storia del Carnevale dal 1300 fino ai giorni nostri. Veramente si sente quella che è la natura del Carnevale. Goethe diceva che il Carnevale non è la festa per il popolo, è la festa del popolo. E questo forse spiega questa folgorazione, questa idea molto limpida di Goethe, la vitalità che ha il Carnevale, cioè la sua celebrazione della vita, che resiste poi a tutte e anche le catastrofe storiche e sociali di questi secoli. Quindi il Carnevale è un po' come il dialetto, insomma, è difficile capire, risalire alle sue origini, è una tradizione straordinaria. Quindi Enrico, ecco, ci vuoi spiegare come è nata questa idea, che cosa ha comportato, insomma, questa che possiamo dire è veramente un'impresa meritoria? Dunque, l'idea è nata nel 2005, quando mi sono trovato a collaborare per trasferire gli strumenti musicali della musica rabita. Li ho fotografati tutti, li ho messi da parte. Poi c'è stata la concomitanza di vari elementi favorevoli. In particolare, mi piace ricordare, perché è giusto farlo, che il primo nucleo dei documenti, che sono tanti, sono vari faldoni di documenti, è stato messo a disposizione gentilmente dalla signora Anna Boiani-Tombari, che aveva da parte questi documenti e quindi gentilmente me li ha concessi, dopo è come le ciliegie, uno tira l'altro. Quindi per vedere se, come andava a finire qualcosa, ho continuato nei vari archivi di Fano e anche l'archivio Vescovile. Ecco, quindi le fonti sono l'archivio di Stato, di Peso, la sezione di Fano, poi l'archivio della Curia Vescovile. Di Ocisi, l'Emeroteca. L'Emeroteca, della Biboteca Federiciana. Per i documenti che si riferiscono in particolare all'800, 700, 800 e 900, prima metà del Novecento. Quindi un volume, due volumi, per un totale di mille pagine, con una straordinaria documentazione, prima appunto dei testi, dei manoscritti antichi, poi anche proprio delle fotografie del secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. Quindi un'opera che tra l'altro sta uscendo in questi giorni e che penso segnerà un punto importante nello studio, nella tradizione del Carnevale di Fano, che sicuramente è un Carnevale che merita di essere valutato maggiormente a livello nazionale perché sicuramente è uno dei più antichi, il documento proprio più antico, Enrico, da quando risale. Diciamo che ufficialmente siamo tutti consapevoli, del resto nel nome del Carnevale di Fano è stata appiccicata questa data, 1347, però documenti usciti negli ultimi anni dicono che possiamo fare un salto indietro di più di un secolo, addirittura al 1231 si parla del tempo del Carnevale. Cioè mi pare una contesa in cui si dice che una multa deve essere pagata entro la domenica di Carnis Privum, no? Della prima domenica di Quaresma. Sì, sì, sì. Si parla di Carnevale, non la festa del Carnevale, ma del tempo del Carnevale. Quindi a questo proposito mi piace dire qualche altra cosa perché a proposito dell'antichità c'è una sorta di gara tra i vari Carnevali italiani a chi, scusate qui l'acceno un po' volgarotto, a chi ce l'ha più lungo. Però non esibiscono, invece Fano esibisce, come? Fano può esibire delle prove eclatanti. Però la cosa secondo me più importante, non è, sì è importante l'antichità, no? Ribadisco, alcuni Carnevali fanno letteralmente carte false per documentare una presunta antichità, eccetera. Il Carnevale di Fano, sulla base di quello che ho potuto constatare in tutti questi anni, ha due caratteristiche formidabili che altri non hanno. Innanzitutto il profondo radicamento popolare e poi una continuità pressoché ininterrotta dai primi secoli ad oggi. E' un particolare questo, ribadisco, che vale ancora di più se si considera che alcuni dei Carnevali più rinomati, giustamente rinomati, sono molto, molto più recenti e non hanno questa continuità. Un esempio per tutti, il Carnevale di Venezia è stato ripreso nella veste moderna, diciamo, nel Novecento. Certo. Quindi noi i documenti, ci abbiamo, li possiamo esibire, sono molto chiari. Senza problemi. Ecco, tra l'altro nel libro sono riprodotti, quindi tutti possono, immagino che possono leggerli. Non è stato facile, perché leggere questi documenti, cioè si trova per esempio un italiano bizzarro, cioè è chiaro sono 1300-1400 documenti scritti in un'epoca in cui la lingua non era codificata da un istituto nazionale, quindi nella stessa documento, la stessa parola è scritta in modi diversi, abbreviazioni, quindi immagino insomma che sia stato un lavoro. Ci vogliono gli specialisti per leggere correttamente quello che è scritto a mano. Quindi noi abbiamo, a partire dal 1347, delle liste di spese affrontate dall'amministrazione comunale, in questi anni sono gli anni dei malatesta, quindi tra l'altro hanno una burocrazia molto raffinata, questo insomma emerge dagli studi, e quindi il comune si fa carico delle spese di carnevale, quindi abbiamo degli elenchi, degli elenchi di spese. Da questo si capisce che il carnevale più antico era caratterizzato dai pali, cioè soprattutto corse di cavalli, corse di somari, come possiamo immaginare questa scena? Cioè un carnevale dell'inizio del 1400 a Fano. Che tipo di corse c'erano? C'erano che premi? Insomma come si svolgeva? Sì, è tutto elencato, quindi sarebbe lunga la storia, però in sintesi, la corsa al palio, in particolare la corsa degli spadaroli cosiddetti, perché in palio c'era, per chi arrivava primo, una spada vera, che arrivava ultimo, una spada finta, diciamo come scherno, siamo in tempo di carnevale, quindi lo scherzo è anche quello di consegnare una spada finta a chi arrivava per ultimo. Sì, perché se mi permetti, ho visto che è illuminante il paragone con quello che si faceva a Verona, fin dall'inizio del 1200. A Verona c'era la corsa del drappo verde, tra l'altro citata da Dante, e anche lì come a Fano c'erano corse di cavalli, chi vinceva aveva un drappo di porpero scarlato, quindi il colore più nobile, e il premio però era previsto per il primo e per l'ultimo, perché l'ultimo che era arrivato era poi costretto a portare in giro per la città il suo premio esibirlo davanti a tutti e quindi l'ultimo premio diventava anche motivo di scherno, per questo veniva stabilito in queste corse il primo premio e l'ultimo, non per il secondo e il terzo, ma solo il primo, il regalo, il premio più onorevole, e l'ultimo, quello invece di derisione. E a Fano c'era lo stesso modello, ma era articolato, perché mi pare c'erano corse di cavalli, corse di cavalle, corse di somari, e poi diverso invece la corse di spadaroli. Le corse dei cavalli, come dobbiamo immaginarci, da dove partivano? È possibile ricostruire il circuito di queste corse dei cavalli che si facevano nel Medioevo qui a Fano? Dobbiamo immaginare innanzitutto che la realtà era molto diversa da quella di oggi. Fano era una piccola città, ben organizzata abbiamo detto, c'era la cerchia delle mura, quindi al di là delle mura c'era la campagna, quindi dobbiamo immaginare che per i cavalli ci fossero degli spazi più ampi, cosa che invece è meno necessario lo spazio, dico, per gli uomini che correvano questi pali. E dobbiamo immaginare sempre la folla che assisteva, quindi la festa, gli scherzi e così via. Sì, c'era di tutto, il carnevale era anche una festa di popolo. Sì, io immagino, cioè la città dei Malateste, fanno dei Malateste, è una città in cui i signori vogliono riportare un po' di lusso, un po' di vita, favoriscono l'immigrazione da tutta Italia, anche dalla Croazia, quindi cercano di riportare popolazione, di riportare il fulgore. Quindi immagino queste feste con, sì, gente vestita umilmente, anche del contado, però anche borghesi, ricchi borghesi, anche nobili, che fanno sfaggio, suoggio dei loro abiti. Però c'è, prima di passare alla corsa degli Spadaroli, che ci interessa particolarmente, volevo toccare un altro punto di questa festa mediovale, cioè che era forse l'aspetto più arcaico, cioè quella che è chiamata la battaglia delle trippe o paglio dell'agnello nei documenti, che si svolgeva in piazza. Cosa succedeva durante il paglio dell'agnello, di solito il giovedì grasso? La vicenda è abbastanza nota perché è stata pubblicata, quindi ogni tanto se ne riparla. Dobbiamo immaginare il periodo di carnevale come quello, appunto, lo sappiamo, della evasione, del cambiamento, eccetera, eccetera. Si dice che ci fosse questa battaglia con le trippe, cioè con l'interiora degli animali macellati. Protagonisti spesso non tanto contenti erano i piazzari, cioè quelli che erano incaricati di fare i controlli e così via. Speciali speciali dell'igiene comunale. Nei confronti di chi vendeva la carne. Dei beccari, dei macellari. Anche qui è interessante questa cosa, perché non c'erano le norme igieniche che abbiamo noi oggi, quindi c'era questa, chiamiamola contrapposizione tra chi controllava e chi era controllato. Certo, questi avevano rischiato sul codo tutto l'anno da parte dei gazzari e il giovedì grasso. Per vendicarsi. E a un certo punto questa cosa viene proibita, perché infatti una delle caratteristiche che mi piace evidenziare di questo carnevale è la sua, virgolette, gentilezza. Ma ne parleremo anche in seguito, perché anche negli anni successivi vengono evitate manifestazioni particolarmente violente, volgari e così via. Diciamo, più che le cose diciamo di carattere violento prevalgono quel, o ci sono anche le manifestazioni. Però sono marginali, sfungono. Sì, però la caratteristica essenziale secondo me è questa gentilezza del carnevale di Fano. Certo, quindi ecco questa festa piuttosto pesante poi viene accantonata perché insomma non piaceva ai cittadini. I documenti dicono che il popolo rideva crepa pelle però i cittadini possiamo immaginare la borghesia cittadina non vedeva tanto di buon occhio. Sì, no ma io immagino anche la scena perché noi siamo troppo abituati alla virgolette bellezza di chi viene inquadrato. Immaginate a quell'epoca tanti cittadini sdentati perché non c'erano i dentisti che curavano la bocca. quindi vestiti alla buona sdentati insomma. Soprattutto grossi contrasti signori vestiti lussosamente bene invece il popolo io l'immagino così. Il popolo in condizioni molto diverse. Sì. Ecco adesso veniamo alla corsa degli spadaroli perché questa è singolare no e c'è anche una questione curiosa insomma se correvano nudi o parzialmente nudi perché in certi documenti si parla per esempio Vincenzo Nolfi parla della corsa degli uomini ignudi come avveniva questa gara qual era il circuito di questa gara a piedi? Dunque ignudi vuol dire nudi quindi c'è poco da fare qualcuno pensa che si debba intendere come parzialmente vestiti io propendo per la forma ignudi anche perché siamo in un'epoca in cui la considerazione della moralità pubblica era diversa da quella nostra e poi se andiamo indietro nel tempo e vediamo le immagini riportate per esempio nei vasi greci che sono un riflesso i corridori i lottatori erano nudi anche per motivi pratici motivi pratici chi deve correre deve arrivare primo non può essere condizionato da una e quindi poi in una gara così anche per evitare strattonamenti abbiamo per l'altro la testimonianza che a Verona dove appunto c'era la corsa del Paglio Verde effettivamente correvano nudi quindi anche questo è un tratto molto arcaico del Carnevale di Fano che si ricollega probabilmente a qualcuno dice addirittura a corse dell'epoca etrusca o ai Lupercaglia Romani singolari che probabilmente percorrevano un tratto di strada da fuori le mura fino alla piazza davanti al Duomo perché quello era il punto di Arvivo qui andiamo per ricostruzioni logiche allora io la chiamerei una corsa non veloce quella dei 100 metri per dire poteva essere direi un mezzo fondo 400-500 metri quelli che si possono percorrere tutto dunfiato e quindi era un po' fuori rispetto alle mura quindi immaginiamo dove adesso c'è via Roma e lì era tutta campagna e quindi da lì arrivavano in piazza e lì c'era davanti al Duomo davanti all'episcopatum c'è scritto nei documenti tra l'altro noi qualche anno fa l'abbiamo ricostruita questa corse degli uomini nudi nel 2016 e devo dire che ha avuto un notevole successo secondo me merita di essere riproposta non erano proprio nudi non erano nudi tra l'altro guardate anche qui la combinazione avevano come erano squadre quattro squadre caratterizzate da colori differenti avevano anche la mascherina diciamo un anticipo dei tempi attuali un'anticipazione di quello che poi è accaduto che sta insomma che stiamo per finire di passare bene allora a questo proposito però tiriamo in ballo un poeta fanese il Dragoncino e adesso i nostri lettori ci racconteranno in base a uno studio di Alberto Berardi poi elaborato da Enzo Vecchiarelli in forma di dialogo ecco che i nostri attori adesso ci porteranno a conoscere questo poeta fanese Dragoncino che ci dice qualcosa riguardo alla corsa degli spadaroli di Fano ecco quindi sentiamo un po' cosa diceva il Dragoncino Alberto Berardi ci racconta dell'ingiusto oblio che circonda il grande poeta fanese Dragoncino ecco le sue parole ho chiesto almeno a dieci fanesi di media cultura chi fosse Giovan Battista Dragoncino uno solo lo conosceva il mio medico Paolo Barnesi eppure Dragoncino nacque a Fano nel 1497 e fu all'epoca un celebre poeta attivo in Venezia era stato costretto a rifugiarsi nel Veneto per motivi ignoti e lì godette della protezione di famiglie nobili e influenti Giovanissimo compose il poema L'innamoramento di Guidon Selvaggio stampato a Milano ma purtroppo introvabile successivamente apparve la sua seconda opera Nobiltà di Vicenza stampato a Venezia opera singolare a metà tra la cronaca di viaggio e la descrizione turistica seguirà Lode di Schio e ancora Rime in morte di Polisse Nattendo ma il successo vero gli arriderà con Marfisa Bizzarra che rimase incompiuta un personaggio letterariamente fortunato questa Marfisa giovane e indomita guerriera tanti i poeti sedotti da lei da Ludovico Ariosto a Pietro Aretino da Marco Mandarini a Danese Cattaneo per non tacere di Matteo Maria Boiardo che la evocò per primo varie edizioni si susseguirono dell'opera di Dragoncino nel Cinquecento e nel Seicento e lo stesso Carlo Gozzi nel 1772 ne prenderà in prestito il titolo La Marfisa Bizzarra appunto per Dragoncino sarà poi la volta del poemetto in ottave vita del sollazzevole Buracchino figliuol di Margutte e di Tanunago suo compagno una storia di beffe ordite ai danni degli osti marchigiani Qualcuno a questo punto può chiedersi a chi giova a riesumare questo poco noto poeta rinascimentale fanese la risposta è semplice il carnevale Alberto Berardi ricordava che fu sono parole sue l'attore nonché valoroso ricercatore Vittorio Tranquilli qui al mio fianco a segnalargli alcune ottave dell'edizione del 1532 in cui si narra che Marfisa per inseguire un usignolo che l'aveva svegliata si libera dell'armatura ed ignuda guarda un corso d'acqua sembra Marfisa dietro al rosignolo di Carneval di Fano un spadaruolo ovvero come lo erano gli spadaroli che il poeta durante la sua giovinezza aveva visto a Fano correre per conquistare la spada in palio vera per il primo di piombo o di legno per l'ultimo lo stesso evento la corsa a piedi oltre che sui cavalli cavalle e asini è presente in numerose edizioni del carnevale dei secoli XV e XVI ma restiamo a quei versi e altri che seguono sembra Marfisa dietro al rosignolo di Carneval di Fano un spadaruolo più che mai corre che quel spera in mano e correndo la forza sua rinverde par come ho detto un spadaruolo a Fano quando si corre il palio rosso e il verde et porco et spada dal qual pregio crudo tra il cognome il villan che corre nudo autorevole conferma di ciò che Dragoncino scrive nei suoi versi sono alcune note di spese del palio carnevalesco del 1347 e lo statuto manoscritto emanato dai malatesti nel 1450 con tanto di elenchi di premi palio rosso per il vincitore della corsa dei cavalli palio verde per quella delle cavalle la baffa di un porco salato per quella degli asini ed infine la spada di ferro per i corridori ignudi a piedi sì ignudi abbiamo la testimonianza di chi aveva assistito alla corsa corridori ignudi proprio ignudi come Marfisa alla ricerca del suo usignolo sorvolando sull'allusione bene quindi abbiamo reso onore al poeta Dragoncino no? che insomma molti di noi magari non conoscevano neanche insomma una testimonianza preziosa adesso veniamo Enrico a un altro aspetto del carnevale antico no? prima abbiamo visto il lato più popolare però c'era anche l'aspetto forse più raffinato delle feste in corte no? perché i documenti a partire dal 1400 cominciano a parlare a affiancare alla spesa per le corse anche la spesa per ingredienti vari da gli spesa appunto fatte per le feste in corte nella corte dei magnifici priori delle volte si dice qui leggo per esempio un documento un po' più tardo del 1522 che riguarda il martedì di Carnevale e si parla di confezioni quindi probabilmente non so forse già confetti o dolciumi poi miele il miele non manca mai biscottini biscottini è scritto così legne farina pevere zaffarano ranciata e poi corde di leuto di liuto quindi e di citarone ecco quindi come possiamo immaginare queste feste noi ci diamo un lato forse un po' più elitario del Carnevale a Fano nel Medioevo e nei tempi insomma del Rinascimento come che immagini possiamo avere innanzitutto dobbiamo dire che a Fano c'è stato un grosso cambiamento politico la città è entrata a far parte dello stato della chiesa quindi ci si potrebbe aspettare una come dire una stretta rispetto a manifestazioni licenziose e invece no invece pare che siano ancora più consistenti queste feste io parlo di quelle organizzate dai signori e lì anche questo è collegabile con la grande storia perché ricordo che siamo nell'epoca delle scoperte geografiche dei traffici e quindi arrivano a Fano vengono citate questi prodotti molto interessanti si parla di zucchero evidentemente lo zucchero da canna è melarance le arance per fare la ranciata e da noi non si coltiva non si produce l'arancia quindi viene dal sud Italia perlomeno è zaffarano zafferano è un prodotto costosissimo io ho visto che già in quell'epoca veniva coltivato in Abruzzo quindi la sostanza qual è erano cose costose quindi c'era l'impegno dello Stato per fare queste feste durante le quali immagino anche che il vino scorresse a fiumi un allenco di spese un barile di vino 50 litri di vino non era no ma la cosa più interessante secondo me è questa durante queste feste compare per la prima volta anche il termine confetti il confetto è il dolce abbastanza semplice una mandorla coperta di zucchero che veniva diciamo consumato in quest'epoca a questo proposito mi ha colpito una cosa c'è una spesa 1537 compaiono i coriandoli cioè 16 libbre fra anici e semi di coriandolo quindi siamo insomma intorno ai 5 kg perché poi il nome coriandolo deriva da questo erano proprio letteralmente semi di coriandolo che venivano glassati e poi lanciati così per le feste quindi insomma anche a Fano a carnevale si comincia a lanciare questi confetti di coriandolo di anice che insomma segnavano nel rinascimento il carnevale si potrebbe ipotizzare ma anche qui non ci sono documenti certi però ipotizzare che quella che è la caratteristica più nota del carnevale di Fano è il lancio dei dolciumi ma ne parleremo dopo perché è molto interessante quindi ecco il luogo potrebbe essere la corte maratestiana nei documenti si parla nella corte degli magnifici priori queste feste siamo in centro Fano è una piccola città quindi il nucleo principale è quello che anche oggi è tale quindi il centro della città nella corte degli magnifici priori quindi possiamo immaginare in centro forse quella che oggi è la corte maratestiana comunque un ambiente riservato probabilmente anche candere cioè quello che colpisce anche la spesa per le candere quindi illuminazione notturna si cominciava a andare non c'era ancora la luce elettrica verso le ore della notte quindi una voce di spesa importante era candere di cera candere di sego quindi ecco nel corso del Cinquecento cominciano forse a scemare le corse dei cavalli l'aspetto più fisico e cresce invece l'aspetto più diciamo raffinato delle feste in corte però ecco i documenti ci rivelano che intorno al 1566 così improvvisamente cominciano a fioccare da parte dell'autorità religiosa del governatore del vescovo divieti nel 1566 c'è il divieto di indossare maschere senza autorizzazione ma le pene sono severe cioè 25 scudi d'oro in capitale ma quello che è peggio tre tratti di corda cioè una vera e propria tortura come quella subita da Machiavelli quando i medici ritorno a Firenze che poteva lasciare anche anche i losati per tutta la vita per le donne sono previste frustate addirittura se qualcuno osa mascherarsi senza autorizzazione se osa mascherarsi da sacerdote o in qualche qualche tematica religiosa cosa sta succedendo ecco la seconda metà del Cinquecento allora teniamo diciamo la grande storia che si intreccia con la storia locale la metà del Cinquecento sappiamo tutti è il periodo in cui la Chiesa Cattolica possiamo definire tale adesso sta tentando di arginare la riforma protestante quindi è immaginabile che questa ventata di contenimento rispetto a comportamenti troppo licenziosi arrivi a Fano quindi gradualmente arriva questa onda ho un altro particolare che poi magari approfondiamo dopo i tempi di trasmissione delle informazioni non sono quelli di oggi noi in tempo reale sappiamo qui cosa succede in America teniamo conto della velocità massima a quell'epoca era quella del cavallo ecco ma anche la capillarità dell'informazione era differente quindi arrivava nei centri ma in periferia era differente quindi voglio dire che perché un evento enorme come quello della riforma cattolica ci mette tempo per produrre i suoi effetti forse nel 1600 si avverte nel 1600 i documenti ma non solo in questo ambito sono molto scarsi quindi dobbiamo immaginare che qualcosa di molto grosso abbia condizionato noi parliamo del carnevale ma io direi la vita complessiva di Fano ma anche di altri luoghi quindi ecco c'è una cesura quasi nel 1600 forse sì restrizioni della contro riforma il potere spagnolo la decadenza insomma un po' dell'Italia di quegli anni lì problemi anche di epidemie che hanno sicuramente colpito anche Fano quindi scompaiono per esempio le corse da questo punto in poi per un certo arco di tempo fino all'Ottocento non ci sono più corse scompaiono gli spadaroli la corsa degli uomini nudi una ripresa c'è all'inizio del 1700 arriva qualcosa qualcosa di nuovo tu qui hai trovato dei documenti estremamente interessanti di cui adesso i nostri lettori ci daranno conto di nuovo con un dialogo sceneggiato da Enzo Vecchiarelli letto da Vittorio Tranquilli e Maria Flora Gianmarioli ma cosa riguardano questi documenti insomma se si parla di zitelle ma chi erano le zitelle nell'afano del 1700 allora io immagino cosa è capitato immagino come una pentola a pressione che tiene e tiene ma a un certo punto esplode quindi io immagino che nel 600 questa condizione di compressione della vitalità sia stata forte l'esplosione ripeto sia all'inizio del 1700 quando delle ragazze da marito le zitelle noi abbiamo giovani oggi una connotazione diciamo negativa delle zitelle tecnicamente da 18 a 25 anni no di meno ancora meno perché un documento della seconda metà dell'800 si dice anche qual è diciamo il limite minimo dai 15 ai 20 anni direi ragazze da marito già diciamo mature perché all'epoca l'età media era molto più bassa della nostra quindi queste ragazze io le ho definite delle femministi antelite che rischiamano grosso perché queste hanno il coraggio siccome dicono noi stiamo tutto l'anno in casa e abbiamo diritto di divertirci giustamente vogliono tirare i confetti ai loro fidanzati sì ma guardate che è una cosa enorme questa perché queste ragazze vanno contro l'autorità diciamo del padre dei fratelli del parroco del vescovo quindi rischiano grosso perché le pene abbiamo già detto prima sono pesanti le pene corporali però nonostante tutto queste ragazze ma non poche addirittura si parla di 50 o 60 per volta che vanno in città e vogliono farsi vedere cioè sono mascherate però non in modo tale che non si riconoscano da chi vogliono loro quindi cosa fanno per attirare l'attenzione di questi corteggiatori lanciano i confetti ok bene quindi da questa secondo me questa potrebbe essere la genesi della caratteristica del canale di fare il lancio dei dolciumi la sfilata con il lancio di dolciumi ma non solo questo perché durante questa qui è parola di vescovo sentiamo sentiamo proprio direttamente le parole del vescovo magari ci ritorniamo e della portavoce delle zittelle quindi prego ecco i nostri attori adesso possono di nuovo dar vita agli avvenimenti di 300 anni fa la seguente contesa è tratta da una lettera conservata nell'archivio storico diocesano di Fano è l'8 febbraio 1711 il vescovo di Fano Monsignor Ghiberti scrive a Monsignor Farsetti governatore di Pesaro e Fano prendendosela con noi zitelle con noi ragazze la lettera inizia con queste parole apprendendo io sempre più il pericolo e incitamento che può nascere alla gioventù il veder donne in gala per le strade per le piazze a piedi e in numerosa truppa come anche il pregiudizio che può venirne alla modestia e berecondia delle zitelle che sono quelle che fecero l'anno passato e averian da far quest'anno con mascherata stimai di mia obbligazione due mesi sono in circa quantunque si cominciano a sentire l'odore del carnevale è un principio di concerto per un'altra solenne mascherata mi permetto di interrompere insomma il signor vescovo teme che una cinquantina o sessantina di noi zitelle si possa girare per la città con lo scopo di divertirsi eh sì è soltanto quello che vogliamo e siamo un folto numero di donne ordinerò a tutti i parrochi di andare ciascheduno in tutte le case della propria parrocchia a esortare da parte mia i capi di famiglia di non fare che le loro zitelle entrino in questo numero il vescovo crede che questa diligenza possa bastare se non basterà questo intervento dei parroci ci sarà proibizione espressa con editto non basterà neppure questo signor vescovo siamo determinate e allora farò chiamare alcuni capi di famiglia e altri della cittadinanza che furono proprio questi ultimi l'anno passato i responsabili di questa bella conseguenza li esorterò pastoralmente a deviarsi da questo pensiero alcuni di quelli che il vescovo ha chiamato hanno ascoltato per nostra sfortuna le sue esortazioni qualcun altro invece per nostra fortuna mostrò un gran senso di dispiacere dicendo che il nostro voler girare per le strade e le piazze tutte insieme divertendoci è in realtà una cosa virtuosa e che non si può proibire dissero ancora in nostra difesa che era ragionevole il dar questo giusto sfogo e soddisfazione alle zitelle che stan tutto l'anno in casa ma quale cosa virtuosa ma quale sfogo io medesimo l'anno passato avevo voluto vederla da una finestra del mio palazzo vescovile questa cosa virtuosa e per questo appunto per le cose che ho visto che stimavo bene di impedirla ma cosa avrà visto di male alcune decine di ragazze che ridevano e saltellavano felici i capi della cittadinanza alla fine dei conti sono dalla nostra parte e la nobiltà in tutta questa storia non interviene fa da spettatore e come si suol dire si scalda al fuoco degli altri io cerco di non alterarmi supplicherò però l'illustrissima signoria e governatore di Pesaro e Fano Monsignor Farsetti di eccitare il suo zelo restituendosi qui in città per una sola mezza giornata al fine di rendersi ben informata di tutto e reprimere l'ardire di chi eccita il popolo contro il proprio vescovo et ne tumultus fiat in populo et ne tumultus fiat in populo perché non ci sia tumulto tra il popolo ma io non conosco il latino ma me lo sono fatto tradurre da chi il latino lo conosce noi zitelle saremmo dunque causa di un tumulto tra il popolo accidenti che potere che abbiamo insomma abbiamo visto anche in questo caso come l'onda della grande storia è arrivata a Fano evidentemente insomma l'Europa dell'inizio del 1700 comincia a sentire dei suoi movimenti una modernità insomma che si affaccia prepotentemente ma questa storia delle zitelle come va a finire insomma riescono a averla vinta le zitelle di Fano dunque io ho fatto delle ricerche per gli anni successivi e non ho trovato niente di specifico poi mi faccio una domanda retorica ma è possibile che delle ragazze abbiano potuto impunemente continuare a fare quello che volevano loro io penso di no oltretutto lo stesso vescovo che in precedenza si è mostrato dialogante perché cerca di convincere il parroco i genitori i padri a tenere in casa queste ragazze prima dialogante dopo invece rigido quindi immagino che non sia finita bene per queste ragazze e la fase successiva attraverso sempre i documenti sembra portare a un irrigidimento della situazione almeno per quanto riguarda il ceto basso cioè il popolo non credo che sia stata la stessa cosa per i nobili invece continuano a fare quello che vogliono comunque ecco nel settecento le cose continuano ad andare così si usa il teatro in particolare ha preso già dalla fine del 1600 Giacomo Torelli grande scenografo Giacomo Torelli lo conosciamo perché c'è un istituto scolastico dedicato a Torelli quindi si fanno tante feste in teatro anche rappresentazioni allora Giacomo Torelli è tornato in patria a Fano dopo che per anni è stato il grande stregone del re Sole in Francia quindi ha sorpreso tutti con le sue scenografie le feste e così via quindi ha regalato alla sua città questo teatro che diventa il nucleo centrale dell'attività io dico non solo culturale ma anche sociale della città quindi seconda metà del Secento nasce questo teatro che resta in funzione per un secolo e mezzo perché poi entra in crisi intorno al 1830 e poi dopo riprende insomma con la nuova dopo c'è il teatro del Poletti ecco quindi legato al teatro adesso andiamo un po' velocemente perché chiaramente è impossibile esaurire l'argomento questo libro è veramente una miniera straordinaria però percorrendo velocemente i tempi arriviamo alla fine del 1700 poi i primi dell'800 arrivano i francesi arrivano i francesi è una grande rivoluzione no? e quindi grande preoccupazione prima grande preoccupazione delle autorità ecclesiastiche perché si dice nei documenti arriva a Rimini c'era il generale Buonaparte noi diciamo Buonaparte era la francese Buonaparte che minaccia la città e in città si fa una raccolta di fondi non so quanto volontaria questa raccolta di fondi in città nel contado nel contado per armarsi contro per fortuna non c'è questo scontro armato però la realtà è quella che i francesi entrano in città ci interessa l'arrivo dei francesi per la nascita del termine Boulogne a Fano si dice c'è un Boulogne come collegato anche qui poi i nostri lettori attori ci la ranno vita insomma questa scena ma intanto introduciamo la questione in che modo il termine fanese Boulogne che vuol dire la persona un po' lo sbruffone è legato all'arrivo dei francesi a Fano secondo me ma è stata ricostruita da altri brillantemente questa genesi del termine Boulogne è molto attendibile per vari motivi sarebbe il Noulon in francese noi vogliamo e quindi ordiniamo questo cosa ordinavano i francesi in particolare imponevano delle tasse delle restrizioni ed è chiaro che non erano simpatici i portatori di questo messaggio magari su di loro quindi quando l'araldo colui che gridava diceva non Boulogne piano piano questo termine colpito secondo me a parte che è affascinante ma anche molto probabile perché ci siamo con i tempi ci siamo con diciamo l'etimologia probabilissima della parola e quindi questo personaggio era quello che comandava il Boulogne il bruffone che comanda e che detta ordine tanto per dire che il Carnevale ha inciso tanto profondamente sulla vita sociale oltre che economica lo vedremo più avanti ha fornito anche un lessico certo bene quindi sentiamo ecco di nuovo questa un dialogo incentrato sulla un editto napoleonico riguardo anche questo molto molto interessante ecco per certi particolari quindi diamo di nuovo voce ai nostri attori Fano 21 febbraio 1810 Regno d'Italia Dipartimento del Metauro il Podestà di Fano avviso ritenute le ordinanze emanate con avviso prefittizio dello scorso gennaio essendosi accordati alcuni pubblici veglioni di carnevale in questo teatro comunale di Fano dovranno osservarsi le seguenti disposizioni prima del veglione sia fissa nei luoghi soliti la lista dei balli che si eseguiranno restando in arbitrio dei signori deputati il variarla secondo le circostanze nella sera del veglione sarà illuminato il teatro a giorno le scale le corsie e la platea il palcoscenico invece rimarrà chiuso con sentinelle le quali ne vieteranno a chiunque l'ingresso siano aperti gli sportelli dei palchi per l'uniformità e la vaghezza del colpo d'occhio parimenti le porte dei palchi si tenghino o aperte o socchiuse in modo che i signori deputati e la guardia possano entrarvi al momento se lo credono opportuno tutto questo perché non si sa mai che cosa può accadere all'interno dei palchi se si crea un'oposfera di eccessiva intimità eh già non si sa mai chiunque vorrà entrare in teatro per il veglione pagherà 50 centesimi ossiano bagliocchi per ciascuno non si permette l'ingresso nel veglione che a persone decentemente vestite è proibito a chiunque il ballare senza guanti alle mani e senza maschera in volto o almeno quanto agli uomini la maschera in petto e per le donne nel braccio similmente si vieta di ballare con gli stivali chi non balla potrà tenere il soprabito per il veglione sarà illuminato il teatro alle ore 2 di notte o facendosi in serata di commedia alle ore 7 al più tardi il ballo incomincerà e terminerà a giudizio dei signori deputati qualunque dell'azione d'armi ogni altercazione disordine e inosservanza delle premesse disposizioni verrà severamente punita con rigorosa multa anzi no non con rigorosa multa ma con immediato arresto ed altre penali a termini della legge queste disposizioni verranno pubblicate nei soliti luoghi e avranno la stessa forza che se fossero state a ciascun personalmente intimate Fano 21 febbraio 1810 il podestà Bonacorsi Bonaparte Savio insomma è molto interessante Enrico anche divertente divertente ma perché questi palchetti del teatro dovevano avere la porta rigorosamente aperta come si può spiegare questo allora immaginiamo il contesto fa freddo è buio il pan ci manca e quindi io immagino ma non è solo immaginazione questa anche documentabile che ci si scaldasse dice indevolmente nel modo più naturale possibile in questi palchi la festa di carnevale insomma il primo aiutava insomma sicuramente a questo ma il discorso del teatro delle feste in teatro ci porta a menzionare anche degli ospiti celebri del carnevale di Fano 1718 al carnevale di Fano partecipa Giacomo III Stuart che è la casa reale inglese cioè è vero che lui è in esilio che in Inghilterra insomma la famiglia Stuart viene estromessa perché è cattolica lui viene ospitato Urbino è in esilio Urbino però decide di venire al carnevale di Fano cioè lui bisogna dire è legato a Fano anche perché sua nonna Laura Martinozzi era una fanese quindi Fano diciamo ha anche dato dei contributi alla famiglia reale inglese lui Giacomo III viene a Fano arriva alle 11 di sera ma subito vuole andare a teatro si aspetterebbero il suo corteo che andasse a riposarsi invece va a teatro e come passa questa settimana a Fano Giacomo III anche questo è noto perché diciamo questo elemento è stato pubblicato dal professor Berardi qualche anno fa quindi e lui ricostruisce diciamo brillantemente questa questa vicenda dunque Urbino è un po' all'interno no? quindi è più fredda di Fano stiamo in inverno si sa che a Fano a carnevale c'è allegria c'è movimento e quindi fa piacere a questo giovanotto venire a Fano dove si ambienta benissimo quindi sta più volentieri a Fano che non a Urbino tra l'altro tutti si stupivano che andasse in giro senza scorta lui vuole andare per il corso per le città di Fano si teniamo conto di un altro oggi tutti quanti noi sappiamo com'è fatto il sovrano di il presidente di magari si un po' di cautela però era molto improbabile che fosse riconosciuto per strada però ciò non toglie che una certa imprudenza c'era nel però evidentemente era più forte richiamo della festa che non diciamo stare un po' riservato quasi tutti i giorni va a teatro feste da malo visita anche la biblioteca federiciana quindi passa più di una settimana di grande sollievo divertimento a Fano poi un altro ospite illustre Gioacchino Rossini che da piccolo è venuto a Fano dicono i documenti che tu hai pubblicato per la vita anche questa è una cosa molto conosciuta si sa che i rapporti cosa è venuto a fare a così piccolo nove anni a Fano al teatro sì anche qui ripeto sono cose abbastanza è un ragazzino di nove anni credo in quel periodo la madre era cantante e quindi impegnata nella stagione lirica qui a Fano che coincideva con il periodo del carnevale lui suonava uno strumento musicale è stato diciamo visto da un sacerdote mentre si era appartato con una sua coetanea e quindi già si vedeva da subito il suo carattere sanguigno e quindi ma lo vedremo anche dopo perché ecco lui si arrabbia per essere stato scoperto lo prendevano in giro i grandi quelli dell'orchestra lui sbotta e fa una scenata insomma comunque ecco quello che è certo che a Fano contrae un grande amore per il carnevale perché poi lo ritroviamo anche qui è Alberto Berardi che racconta in un suo scritto come anni dopo adesso anche in questo caso i nostri attori daranno vita a questa scena anni dopo lo troviamo a Roma lo troviamo a Roma per il carnevale insomma a celebrarlo in un modo particolare vediamo ecco cosa Rossini nel carnevale il suo amore per il carnevale nato a Fano come poi si esplica in età più giovanile è il carnevale del 1821 Alberto Berardi ci racconta di tre strani personaggi un po' burloni che si divertirono facendo i cosiddetti scherzi di carnevale chi erano mai i tre falsi mendicanti che nel giovedì grasso del 1821 nel pieno del carnevale romano dopo essere passati a cantare in due o tre case poi al corso ed infine al festino per tutta la notte ottennero un discreto successo non fa per dire ma si fece furore commentò poi il più letterato dei tre nelle sue memorie due erano vestiti da donna e strimpellavano due chitarre il terzo è da presumere che prestasse la voce dai cenci di cui erano ricoperti traspariva però un abbigliamento elegante la musica era di un autore che andava allora per la maggiore tal Gioacchino Rossini il più grande grosso dei tre una cosa inaudita il più vecchio era invece un altro musicista il cui nome diventerà famoso nel mondo intero Nicolò Paganini il terzo il più giovane un artista sensibile scrittore di romanzi di successo a cui spetterà poi il compito di guidare l'Italia in anni difficili Massimo D'Azzeglio incredibile ma vero miracoli del carnevale Rossini Paganini e D'Azzeglio insieme Burloni sembra che Rossini abbia sempre avuto sin da piccolo interesse per le feste di popolo al punto di riuscire a smuovere due persone tradizionalmente restie e sentite le parole del testo che cantavano siamo ciechi siamo nati per campar di cortesia in giornata di allegria non si nega carità e qui si ferma il rigoroso torinese Massimo D'Azzeglio né i miei ricordi ma in realtà i versi erano seguite da altre due strofe che inequivocabilmente spiegavano a quale carità si riferissero i tre bontemponi donne belle donne care per pietà non siate avare fate ai poveri cecchetti un tantin di carità siamo tutti poverelli senza i soldi e senza gli occhi che suonando i campanelli e scuotendoli i batocchi col dore mi fa so la domandiam la carità Rossini che non buttava via niente passò poi la cantata a ricordi che nel 1847 la pubblicò con l'incongruo titolo di carnevale di venezia e con l'aggiunta di altre strofe ancor più esplicite bene quindi siamo arrivati siamo partiti dal 1300 forse anche prima e siamo arrivati all'800 certamente l'800 è un secolo di grandissimo cambiamento c'è una grossa cesura cioè a livello europeo è il secolo della rivoluzione industriale della questione sociale in Italia insomma nasce l'Italia moderna l'Italia unita questo ovviamente porta grandi cambiamenti uno che mi sembra singolare è dopo l'unificazione d'Italia la nascita della società della fortuna per i divertimenti carnevaleschi l'antenato dell'ente carnevalesca di oggi di cui Maria Florian Gianmarioli è presidente tra l'altro bene questi documenti questi statuti della società carnevalesca sono molto interessanti molto carini pieni di umorismo per esempio leggo in uno del 1872 dove si proclama che la volubile dea volle guardare in canesco i suoi soci quindi i soci della carnevalesca dicono la dea della fortuna ci ha guardato in canesco fin dalla sua nascita e volle anzi costringerli a mettere in circolazione anche i loro quattrini anche i loro quattrini perché poi tutti i quattrini si rovesciassero in ultima analisi nelle saccocce che non danno suono quindi molto molto simpatico il tono di questi documenti è molto simpatico tu lo metti in rilievo mi pare Enrico sì beh c'è da fare una premessa io direi che dopo il 1860 comincia un'altra epoca per il carnevale c'è stato questo grande rivolgimento politico oltre che sociale quindi non c'è più lo stato della chiesa dopo secoli c'è il nuovo stato unitario caratterizzato da due elementi fortissimi innanzitutto la nascita come è detto appena adesso della società carnevalesca e poi la nascita anche della stampa locale qui adesso molte più persone possono far conoscere la loro opinione attraverso questi periodici locali il primo dei quali è l'annunciatore poi annunziatore quindi lì ci sono tantissime informazioni e poi c'è anche la possibilità di ricostruire non solo la nascita ma anche l'evoluzione della società della fortuna per i divertimenti carnevaleschi che nei primi anni è un po' travagliata come vita perché dirà un altro manifesto questa carnevalesca cadde risorse e giacque reminiscenze no? da parte di una persona colta io noto la stessa mano di una persona colta che usa molta ironia secondo me è Antonio Baldelli l'estensore di questi manifesti uno dei principali protagonisti di questa vicenda della carnevalesca che occorre sottolineare per un certo aspetto è la carnevalesca in particolare figlia delle esigenze di carattere economico di una certa parte della società di commercianti io vedo questa presenza costante non sempre felicemente rievocata perché c'è anche rimprovero a questi soci di versare la quota perché questa società è nata anche per incentivare l'arrivo di persone insomma serve per fare movimento e muovere l'economia commerciale in particolare si coglie questo allora qui mi piace citare anche un altro perché il libro di Enrico è ricchissimo a questo punto di manifesti della carnevalesca di programmi questi manifesti sono grandi ma sono anche molto ricchi in particolare per esempio si parla di quali sono i premi anche umoristici e noi vediamo il manifesto però non andiamo a leggere quello scritto piccolo piccolo quindi con un po' di pazienza è stata ricostruita tutta quanta tutto il contenuto del manifesto e si scoprono delle cose bellissime per esempio molto buffo nel 1873 c'è un corso in maschera su Somari a cavallo di Somari ma la cosa buffa è che nel manifesto si raccomanda di non fare la fila per iscriversi perché i posti sono già tutti esauriti evidentemente i Somari abbondavano cioè non iscrivetevi alla corsa mascherata l'ironia è presente sempre in questi manifesti poi ecco questi documenti dei giornali sono molto interessanti da leggere emerge un'altra caratteristica il lancio dei fiori per esempio è un carnevale estremamente gentile qui leggo 1896 è una cronaca di un giornale che dice che c'erano tre carri che lanciavano confetti e fiori ai balconi alle finestre per il corso Vittorio Emanuele e poi il corso Matteotti balconi e finestre pieni di signore e ragazze che rispondono a festanti e da un carro addirittura si spruzza acqua profumata acqua di felsina era un profumo molto famoso allora quindi da questo carro addirittura spruzzavano acqua profumata e tutti dice il giornale si divertono anche i ragazzi e i numerosi contadini che non facevano in tempo raccogliere tanti confetti e poi bellissima la charrette quindi la carrozza del conte Rinaldo Rinalducci che era trasformata in un delizioso canestro di fiori quindi tanti fiori questo caratterizza il carnevale della fine 800 e primi 900 un carnevale gentile insomma che mira alla grazia così alla delicatezza però a questo punto volevo lasciarmi un altro argomento perché nelle croniche dei giornali si parla anche di carrozze venute da Pesaro piene di e da Senigaglia anche da Senigaglia per onorare il carnevale di Fano quindi con grande partecipare perché evidentemente da loro era meno entusiasmante il carnevale il giornale dice sono venuti a onorare gettando confetti però insomma quindi sembrerebbe che con Pesaro tutto sia more d'accordo però qui facciamo un piccolo balzo in avanti in realtà sotto traccia doveva ancora bruciare la storica rivalità perché nel 1926 quindi appunto facciamo un certo balzo in avanti scoppia quella che tu definisci la desfida del cetriolo di cosa si è trattata sì ripeto anche questo fatto è stato pubblicato è abbastanza noto la competizione questi pesaresi che vengono a Fano anche per diciamo accarezzare di nascosto le donne fanesi quindi vediamo un po' come si comportavano i pesaresi a Fano di nuovo con il nostro gruppo di lettori che in questo caso è arricchito anche da una voce pesarese Luigi Canadini sentiamo un po' come è andata questa disfida del cetriolo nel numero 2 del 16 febbraio 1926 un giornale umoristico di Pesaro la Raganella annunciava con toni altisonanti agiamo un momento affare di famiglia l'affare di famiglia era un grande cetriolo Cmarel di cartapesta che fu messo sulla testa della statua della fortuna nella fontana di piazza 20 settembre nella bandierina sulla cima del cetriolo la scritta raccomandato Raganella inutile sottolineare a che cosa somigliasse il cetriolo nello stesso numero era riportata anche una poesia di scherno firmata il muragliese che così recitava avleca venga savoiatri affen parassista ma il gran carnevalone ma avven ma avvica si di gran qua o agima l'aspre che tanti quadrini e te direttore mia vedrà che stufo perché il carneval è sempre un bluff e fa sempre i gradati i bei fani durante il tempo precede questa festa di luce ma già che avleggia veda questa gran festa hanno i rossi a voi andre in compagnia ma provate niente presto torniamo via che se noi c'è ciega oppure rompe la testa salgetti fa soli che i gradati tirando un po' fagioli e un po' di sassi i confetti salamandoli alle volte e tirano solamente i forestieri mentre i fanesi che ha l'aria da portare in giro si lancia un po' di kibon espliciti e goliardici diciamo così gli ultimi due versi della poesia un confetti una pasta un bicchier di vino e a tastere se si può qualcuno accende a conferma delle bellicose intenzioni veniva giunta la frase tutto ciò aveva suscitato sdegno nell'animo dei fanesi che ricambiarono con una spedizione punitiva in quell'epoca ricordiamo che siamo nel 1926 la sfilata dei carri mascherati si svolgeva lungo il corso in testa era il tradizionale pupo seguito dalla banda cittadina al completo con odino alla gran cassa e il bidello e il bersaglier indaffarato al servizio continuo per abbeverare i suonatori con ottimo vino del colle di monte giove getto continuo ricco ed abbondante nonostante la miseria da allora quando la lira si faceva col bagiocco e questi erano ben pochi ma prevaleva il vecchio proverbio la miseria vuole il suo sfogo indistintamente tutti vecchi bambini specialmente la gioventù con la sua euforia si divertivano un mondo nella più schietta e fraterna allegria contraccambiandosi i più svariati ed impensati scherzi carnevale ogni scherzo vale il primo premio fu vinto dal carro il drago incatenato opera suggestiva di incomparabile bellezza dai colori sgargianti sprigionava dalle mandibole lingue di fuoco lunghe più di un metro provocando nel crepuscolo serale durante la luminaria generale dai vari colori un meraviglioso indimenticabile effetto anche un po' impressionante per il servizio d'ordine erano mobilitati vigili urbani e carabinieri coadiuvati da vari gruppi della società carnevalesca si narra ancora di un fatto particolare nella piazzetta di San Tommaso un gruppo di giovani pesaresi infastidiva alcune giovani fanesi che reagivano con alte grida poco distante vi erano due incaricati della carnevalesca che intervennero prontamente ed ammonirono i pesaresi uno dei quali disse per l'oltraggio subito la società carnevalesca si riunì in seduta plenaria il giorno seguente ascoltando e discutendo il parere di ogni socio un noto avvocato che faceva parte della dirigenza della società personaggio molto distinto e signore nel vero senso della parola non tuttavia disposto a far pestare i calli dei fanesi ebbe allora la brillante e geniale idea del Marell si decise dunque di passare al contrattacco sempre però in modo civile e soprattutto carnevalesco fecero dunque costruire da un falegname un grosso e lungo cetriolo con la testa verniciata di colore naturale dotato di due grossissimi brucolosi pomodori rossi gonfi e pieni di seme qualche giorno dopo un commando composto da dieci giovanotti ben piantati fra i quali uno sportivo di porta maggiore atleta di box e lotta greco-romana dotato di un'eccezionale forza da toro spagnolo con due auto partirono in missione alla volta di Pesaro giungendo nella piazza principale verso l'una dopo mezzogiorno un ciclista che in quel momento era di passaggio venne richiesto dal capo spedizione dietro il compenso di 5 lire di procurarsi una scala Pioli con la promessa di raddoppiare la mancia se si fosse sbrigato ed ecco che nel giro di pochissimi minuti la scala fu pronta per essere appoggiata ad un lampione elettrico dove con cura e precauzione venne appeso l'emblema della fecondità fanese risaltante nel suo colorito naturale ed ondolante in tutte le direzioni per il leggero vento che espirava così si chiuse il carnevale 1926 della nostra carissima Fanum Fortuna i fanesi s'allora carneval e' stati sempre bravi e geniai allora bisogna la sciaista quindi molto interessante questa disfida tra Fano e Pesaro ma secondo te c'era un artefice qualcuno insomma che ha tirato le fila della controffensiva fanese mi pare che hai delle ipotesi si si anche queste molto probabili perché si nota una mano diciamo una persona colta la vicenda è carnevalesca quindi sappiamo bene cosa c'è dietro le immagini cosa dicono e molto probabilmente è il giovane segretario della carnevalesca che poi sarà il sindaco di Fano nei primi anni del dopoguerra il giudice Capalozza tutto lascia supporre che sia stato lui a organizzare questa risposta sullo stesso tono quindi se i pesaresi hanno diciamo messo il cappello alla statua della fortuna nella fontana di piazza nell'ampione della piazza centrale di Pesaro compare non solo un cetriolo ma alla base del cetriolo due bei pomodori rossi che sventolano diciamo in piazza ad opera di una spedizione di baldi giovanotti fanesi forti robusti e quindi diciamo che è in tono col carnevale quindi anche raffinati intellettuali non si esimono dal dare il loro contributo a questa festa era un divertimento perché tra l'altro non è come oggi c'è la possibilità oggi di fare festa sempre dovunque e il periodo deputato allo scherzo all'evasione è quello del carnevale quindi si concentrava lì molta parte della voglia di vivere dei nostri concittadini certo Enrico quindi ormai andando diciamo verso la conclusione però non possiamo non anche dire che l'ottocento e anche la fine dell'ottocento e i primi del novecento è anche un periodo storico pieno di grossi contrasti sociali nel caso è il periodo della questione sociale nascita del socialismo a Fano i documenti che tu hai trovato portano traccia di questo come no con grande evidenza uno dei documenti più significativi trovato negli archivi qui del comunale di Fano in vari settori per esempio ho consultato quello del teatro quello dell'ordine pubblico è connesso con il carnevale è la lettera scritta a mano di tal Rinaldoni Pietro che insieme ad altri sottoscrive una richiesta per fare una festa così dice Rinaldoni Pietro siamo disoccupati facciamo la fame e quindi con l'incasso potremmo un po' diciamo sostenerci in questo deserto inverno in questo deserto inverno quindi freddo fame miseria evidenziati bene questi elementi dall'intervento anche questo scritto no di un esponente della chiamiamolo opposizione locale dell'epoca quindi c'era chi evidenziava questo contrasto tra chi se la passava bene ricordiamo che siamo praticamente nella belle epoca fino all'inizio anni inizio novecento quindi c'è chi festeggia leggeramente nei circoli privati e chi fa la fame la cronaca di una festa organizzata dal circo della lettura proprio sfavillante con toni dannunziati dannunziati esattamente invece Rinaldoni Pietro poveretto che chiede il magazzino vicino a Porta San Leonardo per organizzare una festa e racimolare qualche quattrino comunque poi inizio del novecento certamente non è facile si arriva alla guerra mondiale con tutti i problemi che comporta il dopoguerra complicatissimo però nonostante tutto anche in questi anni il carnevale in qualche modo riesce a sopravvivere fino ad arrivare poi alla diciamo normalizzazione dell'era fascista però a questo punto io direi che possiamo passare in rassegno alcune immagini perché da questo punto ecco il libro di Enrico a partire dal 1903 riporta una straordinaria documentazione fotografica la prima immagine è proprio del 1903 mi pare Enrico quindi passiamo un attimo per la verità questa immagine era passata perché c'era una pecetta nelle fotografie diciamo antiche la riportava qualche anno indietro invece facendo il confronto con quanto riportato nelle cronache dell'epoca è il 1903 interessante perché si vede la chiesa di Sant'Antonio con ancora presente l'arco che congiungeva il palazzo a fianco che è scomparso quindi ambientata lì e nelle cronache si parla appunto di un cigno questo è interessante perché è la prima immagine fotografica del carnevale di Fano poi col tempo ce ne saranno sempre più all'inizio ovviamente tutte quante in bianco e nero poi gradualmente siamo oramai nel periodo contemporaneo a partire dagli anni 50 del 900 accompagnano anche quelle a colori però ce ne sono tante il secondo volume del lavoro di Enrico è ricchissimo di immagini fino appunto a sì sì lì sono documentati tutti i carri non è stato possibile documentare anche le mascherate sono talmente tante che c'è una rappresentanza di queste mascherate comunque ecco qui proseguendo balzo qualche anno in avanti 1924 fantasia di jazz band visto che il tema del jazz anche durante gli anni del fascismo si vede incuriosivo insomma anche se l'ho guardato come una cosa aliena io ho notato anche questa questa connessione inizio anni 20 nasce a Fano la musica la vita tra l'altro 1923 fra poco celebreremo i cento anni della musica mi viene in mente che anche in America in questo stesso periodo nasce la musica la Dixland che è improvvisazione inventiva autonomia dei singoli suonatori io a me piace pensare che in America un contributo importante alla nascita di questo tipo di musica sia stato dato dai nostri migranti spesso facenti parte di bande locali musicali che hanno portato le loro competenze in America questo è stato già un tema di un incontro del Bianchini con Antonio Stargapede uno studio che ha fatto insieme a altri ricercatori mi sembra naturale questa connessione poi ecco procedendo nel 1926 abbiamo prima immagine di un pupo quindi questo è il tema del pupo insomma qui ci sarebbe da parlare tanto però in estrema sintesi allora grazie a diciamo questo strumento che ha cambiato il mondo il computer avendo registrato tutte le cronache del carnevale dal 1347 è stato semplice interrogare il computer ho chiesto ho scritto pupo ma anche fantoccio e la risposta è stata immediata il primo accenno alla presenza durante il carnevale di un pupo chiamiamolo così è nella seconda metà dell'ottocento prima non l'ho trovato quindi è molto che non ci fosse si si è interessante vedere come poi cambia il nome perché all'inizio non c'è il pupo si parla di fantoccio no vabbè vari nomi per arrivare fino ai giorni nostri quindi anche con scoppio di mortaretti si 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 la fotografia fa vedere proprio l'esatta coincidenza tra quello che è scritto la descrizione sui documenti sulle cronache con l'immagine fotografica ecco qui tra l'altro le immagini vedo qui 1928 il pupo in piazza anche molto belle perché si vedono i luoghi si queste fotografie ci consentono di riconoscere i luoghi attuali ovviamente sono stati in parte modificati questi luoghi però le strutture fondamentali si riconoscono in quella della piazza con il caffè storico eccetera qui abbiamo un altro pupo il pupo arlecchino siamo sempre in quegli anni si riconosce l'indoccatura della piazza il corso Matteotti con l'incrocio ancora procedendo abbiamo 1929 fantasia di jazz band ancora in un'altra location da notare poi anche qui è semplice questa considerazione chi comanda in questo periodo è il fascismo i documenti poi fanno confermare questa cosa perché a un certo punto si dice che il partito ha fattivamente incentivato favorito il carnevale vuol dire che insomma ci hanno messo i soldi infatti anche i giornali cominciano a sparare la grossa sembra 30.000 visitatori 40.000 è in linea in linea con l'intenzione io noto la differenza lo sviluppo la grandiosità del carnevale dal 1935 perché nei cinque anni precedenti c'è una stasi ricordiamo che a ottobre del 1930 c'è un grosso terremoto che coinvolge le marche settentrionali diciamo a Senigallia a Fano fortunatamente non ci sono si crollano edifici lesionati tanti però dal punto di vista dei morti e feriti poca roba Fano è stata diciamo toccata solo marginalmente e quindi cosa si fa in questi cinque anni poco perché nel 30 c'è il carnevale ma dall'ottobre per il 31 32 fino al 35 c'è poca roba è interessante vedere come nel 32 visto l'impossibilità sostanziale di celebrare il carnevale c'è potrebbe un surrogato nel 32 è documentata una cosa simpaticissima è la somarata cioè un corteo molto numeroso sono centinaia di persone che partono e sembra un esercito perché anche qui ci sono i comandanti il generale eccetera eccetera e percorrono la valle del Metauro e vanno per esempio a Saltara arrivano si vede dalle immagini e quindi è una specie di surrogato del carnevale qui invece siamo a 1935 gli amori di Topolino quindi di nuovo diciamo l'America sì l'America è fascinante per tutti quanti poi invece nel 1937 fantasia 900 qui modernità i grattacieli evidentemente insomma guardate che in questo periodo il cinema è esploso quindi una cosa interessante è questa ovviamente nelle mascherate e nei carri allegorici non si parla di politica per carità non si parla di politica per finire la nostra breve carrellata che è solo un assaggio delle tante immagini che sono riportate in questo libro interessantissimo abbiamo 1939 un manifesto pubblicitario molto grazioso raffinato opera del maestro Rino Fucci di cui per il doppio motivo insomma lo citiamo anche perché diciamo nonno dell'attuale presidente nonché come avete visto favolosa attrice Maria Flora Gianmarioli manifesto molto delicato carino una ragazza vestita da carnevale che cavalca un delfino e certo noi ci fa fare anche una riflessione un po' amara perché 1939 insomma siamo anche sull'orlo dell'abisso però insomma il carnevale continua a essere un momento di gioia vuole sopravviverà insomma anche a questo cataclismo già ci sono le prime avvisaglie della tragedia prossima è molto ben visibile nel 1940 quando c'è diciamo già visibile l'entrata in guerra dell'Italia c'è una bozza di documento del potestà che riconosce alla carnevalesca l'impegno ringrazia però nel 1940 non ci sono i carri poca roba quindi ricordiamo maggio l'entrata in guerra del cos'è il 10 giugno mi pare dell'Italia e quindi dobbiamo aspettare il 1947 perché il carnevale riprenda vita poca roba nel 1947 48 48 c'è la famosa vicenda delle elezioni delle elezioni politiche però dal 49 c'è di nuovo l'esplosione del carnevale ma ne potremmo parlare dobbiamo fermarci ma speriamo che ci sia possibilità certo anche se il pubblico è piaciuta questa rassegna potremmo insomma si potrebbe realizzare perché è tutto un altro capitolo quello allora anche visivamente i due volumi sono diciamo in separati quasi diciamo in stampa il primo volume nonostante comprenda molti secoli è abbastanza più ridotto rispetto al secondo perché ovviamente abbiamo una documentazione molto molto ampia è stata necessaria tagliare molta roba però l'essenziale c'è per ognuno dei 71 anni inseriti in questa in questa raccolta e ce n'è per tutti in particolare per i protagonisti di queste vicende quindi carristi presidenti molti riconosceranno se stessi o anche parenti amici territori amici quindi c'è il carnevale rappresenta la storia di questa città è l'intentimento mio è questo rendere consapevoli i nostri concittadini dell'importanza di questo carnevale io noto spesso una certa area di sufficienza o addirittura di contrarietà al carnevale guardate che una roba come questa non ce l'ha nessuno quindi dobbiamo essere orgogliosi di questa storia e valorizzarla perché una pecca che io noto è questa altri carnevali hanno saputo evidenziare e valorizzare la propria storia giustamente l'orgoglio di dividere la propria storia un po' meno lo noto nella nostra città quindi secondo me il carnevale l'ifano è senza confronto rispetto ad altri merita merita di più bene direi a questo punto Errico che possiamo concludere è stata una carrellata straordinaria solo un piccolo assaggio ripeto di questo chi vuole può documentarsi e passare intere serate a leggere ma non occorre fare la lettura ordinata dall'inizio alla fine ma se uno vuole sapere cosa è successo nel 1958 o nel 1458 non può fare altro che sfogliare queste pagine e trovare tanta roba io a questo punto così visto anche il clima carnevalesco cioè anche un po' diciamo sfidando le ire della padrona di casa vorrei però concludere con un guizzo carnevalesco e quindi tirarti una bella manciata di carnevale di fiocchi di carnevale di coriandoli riavurando va bene va bene il carnevale di Fano continuo e sia sempre più apprezzato sì perché c'è l'ultima considerazione poter fare il carnevale vuol dire non soltanto mantenere una tradizione ma anche vuol dire che si torna alla vita quotidiana in modo più sereno è un augurio che facciamo a noi ma tutti più che mai in questi tempi bene grazie a tutti di averci ascoltato e insomma poi arrivederci al più presto grazie Enrico grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti